preso l'unico che non doveva prenderlo ha preso sono quei tre là su 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 si ma hai tanto di spazio la prima volta giravamo qua rifai fai spaventare gianni gianni non ho visto guarda lui il gino ha più pare di appoggio va beh basta finita seconda onda bene buongan 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 10 15 non puoi passare tu non puoi passare vai 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 Tu sei l'unico Lene 45 Vai Lene Vai, vai, dopo il maestro Occhio, occhio! 37! Fagli vedere! Fagli vedere all'amorevole come si fa! Fai tutto sulla sinistra! Guarda dove si fa! Guarda come si va! Minchia affronto! Mi affronto! Guarda!